A volte migliorare la relazione con il tuo partner sembra davvero impossibile. Magari vorresti cambiare delle cose di lui, magari gli dici continuamente le cose che non vanno, eppure ti sembra di ripetere sempre le stesse cose a vuoto e di non essere ascoltata. È vero anche che noi non abbiamo alcun potere sul cambiare gli altri. E' mai capitato infatti di riuscire davvero a cambiare qualcuno in qualcosa che volevi tu? Immagino che la risposta sia no. C'è una cosa che invece puoi fare che può cambiare le sorti della tua relazione, quella di essere tu la prima a metterti in gioco. Puoi fare una semplice domanda su base settimanale o mensile, chiedendo cosa posso fare per essere una partner migliore per te. Ho avuto delle mancanze questa settimana o questo mese. Ci sono delle cose che ti aspettavi che non sono arrivate. Il fatto di essere tu a dare l'esempio nel metterti in gioco è il miglior modo per poter cambiare l'altro, perché non lo fai in modo direttivo dicendo le cose che non vanno, ma lo fai mettendoti tu in primis in discussione. Attraverso questa piccola azione puoi davvero far la differenza per la tua relazione.